Devo confessare che ogni volta che sento parlare Dario mi crea una fascinazione, ma che non è perché è bravo, oltre che è bravo a parlare, perché questi ragionamenti che fa, che li ripete, abbiamo sentito anche altre volte, ma sempre anche rinnovati dalle cose che si evolvono, non sono il frutto di semplici così, uno che si mette i libri a studiare e poi elabora ragionamenti, sono il prodotto di un'esperienza vissuta che va avanti da oltre un anno ormai e che, vuol dire, non è che passa attraverso questo filtro fondamentale che è la realtà di questa comunità di lotta che si è prodotta a Firenze. Questo credo sia l'elemento fondamentale che ci fa capire come appunto il contributo che stanno dando anche a partire dalla GKN sia un contributo fondamentale, proprio perché nasce da un qualcosa che è vissuto continuamente, chi ha avuto modo di vedere poi anche come arrivano le manifestazioni, questo dato di comunità di lotta che si riproduce continuamente, che resiste, che va avanti, che pensa anche a queste ultime proposte che sono state discusse ovviamente abbondantemente, credo all'interno dell'Assemblea di KKN, credo che sia un qualcosa che ci aiuta tutti quanti anche a intravedere qualcosa in avanti, qualche speranza di poter anche riuscire a incidere in questa realtà drammatica che stiamo vivendo perché io dico una cosa, insomma, prima Roberto diceva non siamo alla fine di mondo, magari appunto citando il dottor Stranamore appunto, ma però penso che se non siamo alla fine di mondo però stiamo vivendo un qualcosa di, solo il fatto di sentire, parlare, che c'è il rischio di un'apocalisse nucleare non è una cosa vuol dire che è chissà qualcosa di assolutamente inimmaginabile, oggi siamo arrivati al punto nel quale c'è questo rischio ed è qualcosa di terribile che si possa oggi arrivare a pensare, a parlare che potrebbe esserci un inizio con una bomba tattica nucleare per arrivare poi a una risposta da parte degli americani e quindi questo è il mondo purtroppo in cui oggi stiamo vivendo che si somma poi a tutte quante le altre catastrofi che stiamo attraversando perché pensiamo solo alla crisi climatica che cosa sta producendo, abbiamo attraversato anche qua un'estate, non è mai stata una siccità così forte come prolungata rispetto a tanti anni addietro, abbiamo visto gli effetti poi quello stesso nelle Marche, quello che succede continuamente ma quello che è successo in tutto il mondo in Pakistan vuol dire un terzo del territorio pakistano è andato sotto acqua con centinaia di morti, gente dispersa eccetera, pensiamo ai migliaia, milioni di ettari di foreste sia a livello in Brasile ma in tutto quanto il mondo, in America, in Canada, in Australia che sono bruciate in questi ultimi mesi e che ogni anno si riproducono in maniera ancora più accentuata quindi è chiaro che stiamo attraversando un periodo che è drammatico, angosciante e in tutto questo però appunto c'è una guerra è una guerra che sta colpendo decine di migliaia di civili, militari che vengono mandati al massacro da una parte e dall'altra ovviamente e però in questa dinamica di questo mondo che sembra veramente destinato a qualcosa di inimmaginabile noi dobbiamo porsi il problema, non è la fine della storia, almeno ce l'auguriamo che non sia talmente folle chi governa, chi è a capo degli stati fondamentali nel mondo non sia così folle da arrivare appunto a fare in modo che l'esplosione, le bombe nucleari arrivino a fare in modo che l'umanità si riduca a miliardi di persone questo c'è uno scenario che potrebbe anche darsi nella speranza che questo non avvenga perché non abbiamo certezze che questo non potrà succedere dobbiamo capire quello che dobbiamo fare, come dobbiamo muoverci a stare con i piedi per terra, a capire cosa possiamo costruire per cercare di cambiare questa realtà e allora io penso che oggi dobbiamo sicuramente pensare completamente in maniera nuova e diversa da quello che abbiamo vissuto anche nel secolo scorso, nel millennio scorso dove c'era una certa visione della storia, una certa visione del conflitto una certa visione anche dei cambiamenti della rivoluzione oggi la rivoluzione non è pensare alla presa del potere non può più essere questo, non può più essere una visione novecentesca delle prospettive di cambiamento ma deve essere qualcos'altro deve essere qualcos'altro che passa attraverso delle esperienze concrete allora io dico che nel mondo ne abbiamo di esperienze anche concrete pensiamo alla roba del Chiapas, pensiamo alla roba della Rojava, del Kurdist abbiamo esperienze di forme di federalismo democratico di qualcuno che sta pensando a qualcosa di diverso io dico che noi dobbiamo partire da quello che siamo pensare che prima Dario citava questa esperienza a Guano io penso che oggi sia fondamentale pensare in termini di comunità di lotta che vuol dire costruire dei luoghi dove ti senti a casa tua in un territorio indipendente dove lo Stato sta da un'altra parte quindi costruisci qualcosa come quello che diceva prima il fatto di pensare a una nuova forma di produzione di rapporto di lavoro che sia integrata, che sia solidale dove tutti questi aspetti che vengono citati al mutualismo, alla dinamica di come uno si sente alla possibilità di interagire con i territori con tutti quelli che fanno un'agricoltura diversa cioè che il mondo che tu puoi pensare da cambiare non è che pensi che si potrà cambiare tra 30 anni, 50 anni, 100 anni bisogna aspettare che il cadavere del nemico passi sul fiume non è questo lo scenario che dobbiamo immaginare ma immaginare qualcosa che trasforma oggi, qui, nel presente le nostre vite, le nostre relazioni per questo anche dal punto di vista sindacale io penso che sia fondamentale concepire la forma sindacato come una forma di comunità che si rapporta con le dinamiche dei conflitti però i compagni stessi, le compagnie che costituiscono la forma sindacale devono avere questo elemento fondamentale non è un rapporto di lavoro che si instaura nel momento in cui fai militanza sindacale ma è una dinamica che parla alla possibilità di cambiare in un'ottica che non è quella semplicemente di voler conquistare qualcosa di migliorativo, fondamentale dal punto di vista salariale ma è una dinamica che si deve rapportare assolutamente con il territorio e con chi? e questo è un elemento secondo me che è altrettanto fondamentale noi siamo sempre stati contrari a queste forme, riti liturgici quali che ci sono ogni tanto, ogni anno due scioperi generali vengono programmati qualche volta da una sindacale qualche volta da qualcun'altra qualche volta pensano a convergere adesso c'è questa proposta del 2 dicembre di questo sciopero generale che poi non è mai generale è uno sciopero che coinvolge qualche migliaio probabilmente a volte forse decine di migliaia di lavoratori ma che non cambia assolutamente nulla dal punto di vista della possibilità di incidere nella realtà vera di un mondo del lavoro e qua penso sia fondamentale oggi stiamo assistendo a una trasformazione nel mondo del lavoro che è un qualcosa vuol dire sono aumentate enormemente le tecnologie la potenza produttiva del capitale si è moltiplicata in maniera impressionante c'è la robotica, c'è la meccanica di precisione ci sono strumenti che hanno modificato completamente l'assetto produttivo e hanno aumentato enormemente la potenzialità delle macchine però la forza lavoro, l'orario di lavoro siamo ancora a 8 non solo siamo a 8 ore ma in tutta una serie di comparti lavorativi l'orario si è dilatato e inoltre siamo all'interno di un meccanismo dove tutti quanti abbiamo questi cazzo degli strumenti diabolici che sono i smartphone dove dal punto di vista capitalistico per esempio pensate a un clandestino che arriva qua in Italia non ha bisogno di avere permesso il giorno per avere un cellulare e questo funziona fondamentale per chiamare a andare a lavorare nelle campagne, nella logistica in tutti quei posti dove serve una forza lavoro ricattabile senza diritti eccetera questa è la dinamica assurda del capitale oggi c'è un livello altissimo di tecnologie c'è Elon Musk che porta la gente in giro per lo spazio c'è tutte queste situazioni qua e dall'altra c'è un livello di sfruttamento che è a livello schiavistico e con livelli di retribuzione che siamo ancora con paghe esistono le paghe legali che sono a 4 euro e mezzo ci sono poi tutte le paghe illegali che sono a 3 euro, 4 euro anche là all'ora pensiamo anche nelle campagne ma non solo nelle campagne abbiamo scoperto anche noi nei settori non solo ma anche nei settori più avanzati abbiamo scoperto a Grafica Veneta che c'erano lavoratori ridotti a schiavitù una delle più grandi aziende di cartotecnica cartotecnica hanno delegatoria e di stampa che al mondo avevano 30 disgraziati pakistani che lavoravano a 5 euro all'ora questa è la dimensione del capitalismo oggi allora la faccio breve voglio dire cosa vuol dire anche dal punto di vista sindacale convergere non è assommando le sigle sindacali che si costruisce una dinamica di forza e di possibilità di cambiare io penso che oggi abbiamo bisogno per quello che siamo in grado di fare ognuno con l'umiltà che deve avere noi abbiamo fatto un'esperienza importante sulla logistica e altri possono averlo fatto con gli educatori sociali con i lavoratori dello spettacolo con altre dinamiche di rapporti di sfruttamento dove tu hai sperimentato delle forme di lotta hai conquistato qualcosa allora io penso che dal punto di vista sindacale quello che conta oggi bisogna mettere insieme è che ognuno senza pensare di essere il sindacato più di classe no perché quello ognuno dice no noi abbiamo la patente no di essere il sindacato più di classe che esiste al mondo no bisogna invece capire cosa rappresenti cosa sia in grado anche sono stato chiamato anch'io da qualcuno per capire cosa fatti il 2 dicembre il 2 dicembre vedremo vedremo cosa faremo sicuramente non sarà non possiamo andare a dire i lavoratori uno sciopero generale ma costruiremo se ci sono le condizioni vedremo anche col governo eccetera costruiremo una giornata di mobilitazione di sciopero di lotta che punta a costruire convergenze vere c'è il problema del carovita c'è il problema della crisi ambientale noi abbiamo partecipato in questi ultimi mesi siamo stati coprotagonisti di un'iniziativa alla coca cola nel periodo di maggior siccità vuol dire questi continuano a estrarre quantitativi impressionanti di acqua quando il comune di Nogara non ha neanche l'acquedotto queste sono le contraddizioni incredibili che ci sono siamo stati al climate camp abbiamo partecipato alla manifestazione Friday for Future abbiamo portato una cinquantina di delegati che hanno partecipato che si rendono conto cosa vuol dire anche partecipare a dinamiche di lotta di conflitti perché si stanno rendendo conto appunto che non serve oggi non è più sufficiente lottare solo nel proprio posto di lavoro e come diceva giustamente Dario oggi il salario non può essere solo quella quota che tu porti a casa di netto in termini monetari il salario dobbiamo lottare perché sia qualcos'altro qua a Padova ad esempio c'è un problema drammatico ma non solo a Padova della casa i migranti non solo i migranti ma anche gli studenti non trovano casa oppure la trovi a cifre astronomiche allora se tu riesci a costruire una lotta che produca il fatto che attraverso il comune la regione che cazzo ne so però riesci a imporre che le case sfitte vengono messe a disposizione delle persone a un affitto che sia accettabile è chiaro che questa è una lotta per il salario fondamentale perché un conto è pagare 800 euro per un mini locale vuol dire di 40 metri quadri un conto è avere un appartamento e poi vivere tranquillamente pagando 300-400 euro che poi sia la portata del tuo salario queste sono le prospettive fondamentali sulle quali noi dobbiamo imparare a muoverci e da questo punto di vista io penso che l'esperienza della GKN sia un'esperienza assolutamente fondamentale perché parla questo linguaggio qua finisco col dire una cosa è chiaro che anche sulla questione della guerra di quello che sta succedendo io penso che noi siamo appena tornati da una carovana che abbiamo fatto assieme a compagni di Solider del sindacato polacco di Spagnoli e siamo andati a portare degli aiuti fino a Criviri che è una città anche abbastanza avanti verso le linee del fronte perché pensiamo che non abbiamo non è che possiamo dire noi a loro quello che devono fare là noi esprimiamo solidarietà a una componente sindacale che sta lottando contro le misure che Zelensky sta prendendo sul lavoro che sono restrittive che usano la guerra per portare l'orario di lavoro a 60 ore settimanali eccetera eccetera quindi noi ci rapportiamo con quelli non abbiamo la pretesa di dire è giusto non è giusto chi va a combattere non lo va a combattere penso che anche là la possibilità che questa guerra possa in qualche modo cessare ma abbiamo visto come in altri momenti storici dipende molto anche da quello che succederà in Russia gli americani in Vietnam hanno perso militarmente sicuramente perché i vietnamiti avevano una capacità militare impressionante però la guerra hanno perso all'interno degli Stati Uniti in Europa dove sono sviluppati i movimenti e i soldati americani si sono ribellati contro questo tipo di massacro a cui erano mandati a fare in un posto lontanissimo o anche in Russia mio penso si sviluppa e bisogna appoggiare abbiamo visto migliaia di persone che stanno abbandonando giovani che stanno andando via dalla Russia rivolte manifestazioni che vengono represse per cui è fondamentale che si sviluppi questo movimento e bisogna appoggiarlo in tutti i modi dopodiché noi possiamo fare quello che riusciamo a fare sicuramente appoggiando quelle soggettività che ci sono in Ucraina che hanno un ragionamento che non è solo anche là non è solo legato al lavoro ma sono movimenti che si muovono sul terreno anche della lotta contro il patriarcato contro il sessismo contro il razzismo eccetera queste sono le cose in uno scenario che è comunque drammatico catastrofico sono tante catastrofi che si sommano però non è che abbiamo alternative l'alternativa che abbiamo è solo quella di lottare e fare quello che siamo in grado di fare con uno sforzo di intelligenza per capire quali sono guardandoci intorno con chi andiamo avanti quali sono i nostri compagni di viaggio e questa è secondo me la cosa anche più complicata e difficile che dobbiamo cercare di fare sicuramente dico per quanto ci riguarda come compagni di viaggio abbiamo sicuramente la GKN applausi grazie grazie